...di Piazza del Popolo, Ascoli Piceno! Oh, continuiamo perché, allora, la cantante che è arrivata sul palco del Festival Bar ha un nome spagnoleggiante, anche se lei è di origine americana, però questo nome spagnoleggiante mi prende. E allora, al Festival Bar, Tori Amos! Grazie a tutti! 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 Tori Amos! Tori Amos! Grazie! Grazie! Grandi nomi, grandi nomi questa sera! Complimenti! Qui al Festival Bar! Complimenti a Tori Amos! Mi fa piacere a Tori Amos! Mi fa piacere perché ho visto che l'hanno apprezzata! Questi sono cantanti un po' difficili, però ho visto che loro... Sì, la nostra piazza se ne intende! Grazie a tutti!